Il big match della decima giornata 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 Kujabi, dall'altra parte siamo al cinquantaquattresimo il vantaggio, tra poco vedremo della formazione ospite, c'è il cross di Antonelli difensore centrale, il pallone viene scaraventato in porta dal Damastino, la grande parata di Prizziari, il palo e poi il tap-in di Masala subentrato a Zecca il sedicesimo minuto del primo tempo siamo al cinquantottesimo il vantaggio della Torres sul cross la grande parata di Prizziari, anzi due interventi però sul secondo il pallone è già entrato, aveva già marcato la linea di porta, il gol di Masala, Alessandro Masala, classe 96 e poi dopo tre minuti in contropiede con il pescara sbilanciato Fischnaller per Ruocco, che l'ude l'intervento in uscita di Prizziari e deposita il pallone nella porta sguardita, 2-0 Torres al sessantaduesimo dunque in quattro minuti 1-2, terrificante per la squadra di Zdenek Zeman qui senza equilibrio si fa infilare l'11 Biancazzurro e poi tutta la qualità di Francesco Ruocco, classe 2001 uno degli elementi più interessati della squadra di Alfonso Greco, ma c'è la grande reazione del pescara l'assist di squizzato per Merola, il secondo gol in campionato, il terzo complessivamente in una stagione, finora vara di soddisfazione per il 10 Biancazzurro però ritorna in partita, si aggrappa al risultato il pescara, perfetto l'assist di squizzato per Merola che supera Zaccagno siamo al sessantacinquesimo arrembante il pescara in questa fase entra Tommasini palla indietro per Moruzzi il suo sinistro che viene respinto dalla traversa con Zaccagno battuto e poi Cangiano serie di finte il suo destro e la palla che colpisce ancora la traversa Cangiano che aveva rilevato a Cornero e poi ci ha provato Pierno con la palla che viene deviata da un difensore della Torres a fondo campo dall'altra parte il contropiede di Cujabi che sfiora il terzo gol finisce qui come 21 anni fa a Pescara Torres batte Pescara due uno